signore e signori buon pomeriggio ritrovati insieme per questi pochi minuti ma intensi che appunto ci permetteranno di vedere diversi orologi per tutti nel senso che possiamo accontentare veramente i posti più esigenti ma anche magari cerco un orologio da non spendere io dico i miliardi voglio dire spendere magari poche centinaia di euro ne vedremo diversi appunto in questa selezione che ho preparato chiaramente per maggiori informazioni dato che questa comunque è una rubrica che va attraverso i canali di youtube è possibile comunque chiamare lo 080 697 7150 e chiaramente chiedere le informazioni anche per quanto riguarda i pagamenti al collega Emanuele Gianfranco Gianni che vi risponderanno io andro chiaramente adesso a analizzare orologio per orologio dicendo quelle che sono le caratteristiche chiaramente anche la proposta però ripeto per informazioni dettagliate magari per quanto riguarda la referenza per quanto riguarda l'anno di produzione o il pagamento rateale fate sempre riferimento al numero appunto 080 697 7150 quando sei pronto Gianni possiamo cominciare appunto a far vedere questi orologi e qui iniziamo già con un orologio devo dire molto particolare perché è anche difficile comunque da trovare il negozio parliamo del Tudor Black Bay 58 orologio nuovo scattole garanzia braccialato acciaio con questo bel quadrante blu e con la ghiera blu praticamente qui parliamo dell'orologio che va a rivisitare proprio il modello nato negli 58 l'orologio come detto poc'anzi appunto è completo di tutto in quanto nuovo scattole garanzia la proposta è di 4200 euro misura 39 millimetri 4200 eventualmente anche qui è possibile accedere ad un pagamento comodo invece subito dopo abbiamo un orologio di rolex però si è molto molto particolare un orologio da collezione un orologio che si è super rivalutato negli ultimi anni parliamo del rolex oyster quartz il date just appunto oyster quartz è la prima volta che riusciamo ad avere questo orologio addirittura con scatola e garanzia rolex è garantito per 24 mesi sul perfetto funzionamento l'orologio chiaramente misura 36 millimetri alla ghiera in oro bianco ed è proposto a 7950 euro l'orologio è in eccellenti condizioni chiaramente parliamo di una referenza che non fanno più da tantissimi anni 7950 per questo rolex date just oyster quartz e poi torniamo comunque a vedere un'alternativa come orologio nuovo scattole garanzia al tudor che è questo brightling parliamo del super ocean 44 millimetri l'orologio in visione è appunto nuovo con i cinque anni di garanzia ed è il diver per eccellenza di casa brightling l'orologio che è subacqua a 500 metri devo dire molto bella la grafica con gli indici misti geometrici e tre numeri arabi movimento meccanico a carica automatica l'orologio è col bracciale d'acciaio la proposta è di 4000 euro prevede anche il datario a ore 3 i 4000 euro come detto prima eventualmente si possono anche pagare nel tempo qui facciamo un esempio di pagamento magari che ne so dando facciamo un esempio 500 euro come a conto i 3500 si possono pagare per esempio con 77 euro mensili va bene orologio ripeto nuovo di casa brightling il super ocean 44 mm mi sono sbagliato poc'anzi perché questo non è subacqua a 500 metri ma mille metri perché è il brightling super ocean 42 mm che è subacqua a 500 questo è 44 mm dunque mille metri ok ora da questo orologio così sportivo andiamo accanto invece a vedere qualcosa di completamente diverso perché questo lo considero forse forse l'orologio più elegante che ho in questo momento da presentare questo stupendo ivc collezione novecento con la cassa carré in oro giallo 18 carati con la sua garanzia originale con il suo cinturino e ardiglione originale ivc ma addirittura parliamo di un di un orologio che è calendario perpetuare e qui la proposta è stata come dire ridimensionata un attimo giusto per augurare buon Natale a tutti in quanto signori un orologio così importante è possibile confermarlo soltanto 5.600 euro è in perfette condizioni ripeto è un orologio con questa importantissima complicazione che il calendario perpetuale soltanto 5.600 euro dall ivc così particolare ora ne vediamo un altro forse ancor più particolare di orologio perché signori qui parliamo dell'Omega Seamaster 007 l'orologio che ha vestito il polso di James Bond nel film Casino Royal che è stato poi il primo film che ha avuto come attore protagonista mi dimentico sempre come si chiama lui Daniel Craig Daniel Craig addirittura questo orologio signori non è mai stato indossato è un NOS misura 42 mm chiaramente parliamo del Seamaster Diver 300 appunto 007 Casino Royal qui vi dico signori c'è una proposta che per un'Omega come dire così particolare addirittura da collezione è mai indossato credo sia ridicola perché di soltanto 5.500 euro 5.500 per questo Seamaster Diver 300 007 edition dall'Omega ci spostiamo invece a vedere ecco un orologio signori che hanno fatto in soltanto 88 esemplari al mondo e anche questo così come l'Omega Seamaster precedente non è mai stato messo al polso è un orologio NOS misura 47 mm questo Corum Bubble Game ha il cinturino in caociu è movimento meccanico a carica automatica e ha una stupenda scatola che lo accompagna qui signori la proposta è di soltanto 3.000 euro un orologio da 4.5 4.8 a soltanto 3.000 pagamento rateale chiaramente se volete anche su questo orologio che ha un prezzo ridicolo potrebbe essere pari a circa 60 euro mensili va bene Corum Bubble o a seguire invece adesso visto che poc'anzi si è parlato di sconti su quelli che sono i listini ufficiali qui signori c'è un orologio nuovo di casa Panerai il Radiomir un orologio a carica automatica con il quadrante sandwich che ha veramente un grandissimo sconto su quello che è listino uno sconto che nessun negozio Panerai farebbe ma neanche al cliente più affezionato l'orologio misura 45 millimetri e signori da 9.900 che il suo listino listino ufficiale Panerai per questo orologio ripeto nuovo scatole garanzia la proposta si abbatte a 6.990 praticamente quasi 3.000 euro in meno su quello che è il suo listino 6.990 per questo bellissimo Radiomir Panerai e poi Gianni adesso abbiamo già mostrato un Rolex molto particolare che è quello Easter Quartz qui signori siamo di fronte all'orologio che credo è il punto di arrivo di tantissimi collezionisti il Daytona d'acciaio movimento Zeniter Primero addirittura con il 6 rovesciato e con in più anche signori un seriale molto particolare il seriale X che determina questo quadrante 3D è un orologio sul quale io posso dire che è un affare che uno di voi appunto può può fare perché la proposta è di soltanto 25.200 euro orologio in perfette condizioni adesso lo metto un attimo in obliquo in modo da far vedere appunto meglio la lunetta che è veramente perfetta così come il bracciale così come il resto della cassa due anni di garanzia vediamo sul perfetto funzionamento 25.200 euro su quello che è l'orologio che sicuramente forse va a completare una collezione ma sicuramente ne arricchisce il patrimonio familiare 25.200 dal Daytona invece andiamo accanto a vedere un orologio che è sempre d'acciaio ed è un orologio unisex data la dimensione visto che parliamo di un 36 millimetri su questo Cartier Ronde un orologio che è full set cioè completo veramente di tutto è movimento meccanico a carica automatica e agli indici smaltati a numeri romani mentre quelli all'interno quelli a numeri arabi sono appunto le 24 ore ha lo zaffero cabochon alla corona ripeto completo veramente di tutto la proposta è di 2.990 euro la chiusura è a scomparsa doppia deployant per questo Cartier Ronde 2.990 poi un regalino ho detto all'inizio abbiamo orologi veramente per tutte le tasche e qui c'è un luisierard un orologio elegante un solo tempo a carica automatica con i piccoli secondi che stiamo praticamente scontando di quasi 50 per cento l'orologio misura 42 millimetri anche il quadrante open con i piccoli secondi a ore 6 signori ho detto quasi 50 per cento di sconto perché la proposta al netto appunto dello sconto è di soltanto 690 euro anziché 1.3 che è il suo listino ricordando che anche i 690 si possono anche ratezzare o in un anno o in 18 mesi da 1.3 690 per questo luisierard nuovo poi da luisierard che è un orologio veramente per tutti passiamo invece a vedere un orologio signori da amatore ecco uno di quei orologi che non deve sicuramente mancare in una grande collezione il breghetta i 21 ma attenzione qua parliamo addirittura del type 21 con la cassa in titanio un orologio che vi dico signori in tanti anni è la prima volta che riusciamo ad avere a proporre tutto originale cioè sul cinturino che non devi cambiare la chiusura deployant misura chiaramente 42 millimetri ed è il transatlantic l'orologio che oltre che la funzione crono è il datario e anche flyback qui la proposta signori praticamente si allinea a quello che abbiamo fatto su altri orologi per il natale ed è soltanto 6500 euro che per un breghetta in queste condizioni per il type 21 assolutamente un prezzo che non esiste perché questo è un orologio da 9 5 10 mila 6 mila e 500 euro poi un altro orologio secondo me da prendere per il rapporto qualità prezzo è sicuramente questo corum per chi magari appunto considera il bubble magari troppo eccentrico qua abbiamo diciamo quello che il modello forse più rappresentativo più conosciuto di casa corum l'advila scap e in questo caso parliamo del legend un orologio che ha un quadrante diciamo molto elegante che misura 42 millimetri è un orologio perfetto con scatole garanzia corum molto molto bello con i piccoli secondi e il datario soltanto 2005 ecco perché ho detto signore orologio importante prezzo credo per tutti 2500 euro per questo avvila scap legend e poi invece così come abbiamo iniziato chiudiamo questa rassegna con un altro tutor con un tutor diverso dal primo qua parliamo del royal con i diamanti un orologio anche questo però nuovo scatole garanzia che misura 41 millimetri devo dire molto bello con questo quadrante blu con tre numeri romani applicati poi anche funzione day date con in più appunto i diamanti taglio brillante è un orologio credo che per chi appunto cerca un orologio nuovo scatole garanzia vuole ancora spendere abbastanza poco e magari perché no quel poco pagarsela un po la volta questo credo che sia un orologio adatto perché la proposta per questo tutor è di soltanto 3.750 altro orologio che eventualmente con un pagamento comodo pagheresti con niente al mese va bene facciamo un riepilogo un po su tutto stiamo rivedendo appunto il bellissimo tutor royal proposto a 3.750 in alternativa chiaramente senza diamanti ma sempre braccialato c'è questo corum l'advillals cup legend a 2.500 euro poi fantastico è il breguet il breguetta i 21 con la cassa in titanio a 6.500 un regalino è invece il luiserard dato che lo stiamo scontando di quasi 50% abbiamo detto da 1.300 6.90 nuovo poi rivediamo il cartier che è un orologio da uomo però per la dimensione della cassa starebbe bene anche ad un polso femminile in quanto è 36 mm questo cartier rond a 2.990 poi al centro qui io ci ho messo il daytona sicuramente quello che è l'orologio più importante che stiamo vedendo il daytona movimento zenith è il primero con il se rovesciato e qui posso dire ha soltanto 25.200 perché è un orologio che signori voglio dire fosse scatole garanzia ci vorrebbero 38.000 euro ma anche senza scatole garanzia ce ne vogliono 29.30 25.200 poi rivediamo il nuovo di Panerai il nuovo che ha praticamente quasi 3.000 euro di sconto da 9.9 abbiamo fatto 6.990 e poi l'alternativa di Corum all'Armilla's Cup l'orologio di Corum Bubble edizione limitatissima a 3.000 euro perfetto perché è un orologio ripeto mai indossato così come sempre mai indossato è l'Omega Seamaster accanto lo 007 Casino Royale stupendo a 5.500 euro per un polso elegante o anche come dire selezionato questo IVC 900 con la cassa in oro calendario perpetuale a 5.600 euro e poi Gianni spostiamoci un attimo su quello precedente perché signori questo Brightling impermeabile a mille metri nuovo scatole garanzia ad una cifra che devo dire che per essere un Brightling nuovo posso accontentare veramente chiunque chiunque ammi appunto gli orologi diver perché la proposta qui di soltanto 4.000 euro poi di Rolex a parte il Daytona abbiamo fatto vedere questo particolare Datejust l'Oyster Quartz scatola garanzia con il bracciale Oysterlink a 7.950 mentre il primo orologio proposto è stato appunto l'altro Tudor il Black Bay 58 chiaramente anche qui nuovo scatole garanzia subacqua a 200 metri abbiamo detto 4.200 euro su queste immagini però ci salutiamo chiaramente ci risentiremo al più presto magari con orologi diversi e ripeto per qualsiasi informazione sui orologi visti basta comporre lo 080 697 7150 dove comunque vi rispondiamo sempre per darvi chiaramente le informazioni che cercate grazie ancora e buona serata arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti